Oh, Dario ne ha visto nuove figurine di Tirannita e Ressuto Udo. No, ma le vediamo subito. Dovete sapere che Comiglia, che chi segue il mondo delle carte Pokémon sicuramente conosce, mette like ad Agnese e a Simone Peano. Ai disegni di Agnese e di Simone Peano. No, tanto per... tanto per dire. Sì, carina, carina, dai, ci sta, questo tratto tremolante. Ma in realtà sembra un modello 3D effettato, tipo contorni poster di Photoshop, non è che mi faccia impazzire. Geloso, la dichiezza, mi ha disegnato. Combi. Anche questo non è che mi piace tantissimo. Normale. Questo invece è bello, con lens flare dietro, perché no? Coccole senza dubbio. Bellino questo Snover, sì. Bello dinamico, mi dà fastidio che... No, non è tagliato. Scusa, rimangio tutto. Carino. Sì, bello questa bomba Snow, così pronta a ricevere. Sembra un lottatore di sumo. Molto, molto bellina come costruzione. Anche la neve che gli va in faccia così con la bufera. Un accenno di cielo. Molto carino. Ok. Perché non si vede il mouse? Bounceweed. Sì. Sta colorazione... Così, così, però. Stini. Sì. Dai, senza infamia e senza lode. Sarina, carina. Da questo si poteva... Secondo me su questo si poteva fare un pochino di più. Magari. Magari. Magari faranno una full art molto più bellina, però... Questo è un Pokémon che va valorizzato con uno stile particolare. Bisogna eccedere, bisogna essere un po' più espressionisti, bisogna... Insomma, diciamolo, ragazzi. Guardiamoci negli occhi. Bisognerebbe buttarla un po' di fuori. Ecco. Esatto. Andiamo... Cioè, ho detto tutto questo e mi forniscono uno stile ancora più regolare. Vabbè. Lascia. No. No, 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 no. No, no, no. Sto bagliore esterno che hanno inserito, sta colorazione. No, no, non mi piace. Bruttino. Allora, da questo mi aspettavo tanto, perché è uno dei miei Pokémon preferiti di questa generazione. Sì. Mi piace il ruzzo la merda, come diciamo a Livorno. Però no, no. Questo è proprio, come dice mio fratello Federico Lezzi de Masi, è proprio il libretto del... dell'ovino Kinder. Questo è uguale. Perché hanno cambiato un po' la posa, ma... Idem come sopra. Ma non ci si può spostare con Dio Bono la tastiera? No, basta, queste ex. Avete rotto i coglioni? Basta! Disegnatele al massimo. Ma queste hanno rotto il cazzo. Non finirò mai di dirlo. Anche a costo di essere pedante e ripetitivo fino alla noia. Basta. Sono tremende. Bellino questo Merrill. Guarda com'è gioioso, colorato. Il tratteggio così... chiaroscuro così... non so se mi piace... però diciamo di sì. Vai. Sì, a me questi qua con l'elemento acquatico così spammato con tutti i gocciolini mi sono sempre piaciuti. Va bene così. Approvato. Bellino questo Louvdisc. Poi lui mi piace tantissimo, come artista. Ok, un... un AceQ. Mi pare... non so come si pronunci. Molto atipico, colui che dà questa testata. Io il Pokémon non lo sopporto, lo trovo veramente orrendo. però molto carino la carta. IceQ. Eh. Ok. Sì. È un po' strano. C'è Toddle. Questo è molto più bellino dell'altro. Poi a me lo sapete. Il bordone... il bordone ciccione piace, lo sapete. L'ho ripetuto mille volte. Quando si va a bordare un colore, sono sempre contento. Bellissimo questo. Questo Kobayashi, ragazzi, racconta, eh. Molto, molto, molto bello. Nonostante non impazzisca per questo Pokémon, questa colorazione, soprattutto questo chiaro-oscuro, questa applicazione delle ombre in questa maniera, che lo rende inquietante ma anche illuminatissimo, come l'ambiente in cui vive, ovvero la neve, anzi, la neve, per pronunciarlo correttamente, mi piace tanto. È minaccioso, è molto kaiju, sembra quasi un poster di un film, di un kaiju eiga degli anni Ottanta, ma mi funziona tantissimo. Bravo. Bravissimo. Troppo bello, cazzo. A parte che Velusa mi garba da morì. Però bello. Bello, cazzo. Con questo vortice, la spirale, lui che segue la spirale viene quasi risucchiato. stupendo. Bravi. Bellina, anche questa. Mi piacciono più le altre che ho visto, però Bellina, nonostante lui non è che sia brilli di bellezza, però molto più bello questo. Lui fiero, impettito, che guarda molto neve. Infatti il set si chiama Snow Hazard, sono contento che gli abbiano dato un semitema. Io mi sono sempre lamentato del fatto che i set Pokémon contenessero poca lore, perdessero un po' il fil rouge dei vecchi tempi. Qui si torna un po' a quel principio lì. Viva la neve, viva le tempeste, viva le bufere, viva i monti nevati. E lui così fiero, impettito, che quasi come una vedetta sta su questo pezzo di roccia ad osservare condietro il suo elemento naturale, questa colorazione, queste sfumature, queste luci che lo colpiscono e fanno sembrare la sua pelle lucida, la pelle di una lucertola quasi, mi piace molto. Di un anfibio. Mi piace molto. Questa è una merda. Bene. Anche questo non mi piace. Sono figlie di un altro tempo, di un altro modo di fare le carte. Ormai Pokémon lo sta capendo, questi sono gli ultimi... le ultime cariatidi che devono essere un po' modificate. Basta. Va bene. Non dico niente. Tra l'altro lui è anche discreto come Pokémon. Va bene. Bello. Bellino. Oh, Slopock, comunque c'è un culo. Senza senso. Stai prendendo dei culi uno dopo l'altro, ultimamente. si sono bevuti il cervello, dai. Carino, carino, molto regolare. Ecco, se... Allora, a proposito delle carte classiche che dicevo, gli ultimi cariatidi, eccetera, secondo me il limite è questo. Cioè, se vogliono avere degli stili regolari per accontentare il pubblico che vuole il soggettone fatto e finito, non ti dico la Sugimori, ma quasi, secondo me questo è il limite. Più giù non andrei. Questa è molto carina, dai, vabbè, via. Mio fratello Kusube non sbaglia un colpo, è sempre bravissimo, anche con i soggetti un pochino più così, perché a me Gotorita non piace moltissimo. Però il castello dietro, la spirale, questa guia un po' francese, eh... no, questa specie di gargoyle che poi non è gargoyle, no? Però è troppo bello. Vabbè, Kusube ragazzi, si sa, è un mostro. L'unica cosa che mi dà fastidio è il taglio qua, ma va bene. Sì, vabbè, sì, ci sta. No, dai, basta, i meno, basta! Basta con questa colorazione qua, è sbagliata! È troppo photoshoposa, troppo sfumata, è artificiosa, si nota troppo. si va bene anche meno un disegno, Tom, nozzi, nozzi, ma... allora, voi sapete che è ondevole per l'amori, ok? Perché per me la plastilina è super top, ok? Mi piace, è materica, mi ricorda la stop motion, mi piace che cambi il set, che vada ad arricchire il set spezzando un po' con tutti gli stili classici, o meno, ma prendere la tazzina, prendere i sinistri e metterlo nel mezzo a tante tazze e caraffette da te per poi andare a scattare questa foto è stupenda come idea, è stupenda come realizzazione. Mi ricorda, anche se c'entra un po' meno, quello che fece con l'inaugurazione del Pokémon Center di Yokohama, dove venne regalata una carta promo che io ho molto bella di Trico davanti alla torre di Yokohama e fece sempre la Mori, la Mori fece una statuetta di Trico, la portò davanti alla torre di Yokohama e scattò una foto. La faccio vedere. Eccola qua. Molto carina, molto molto carina. Poi ho un debole per la Mori. Si sa. Bellino anche questo, però, che si lancia, proprio si tuffa dalla caraffa, troppo bella. Dal bricco. Molto carina. Mi piace la colorazione. Sembra quasi... Ma non lo so, sembra che dentro contenga l'universo, lo spazio. Top. Top davvero. Bellino questo Mankey. Molto, molto bellino. mi chiesto tre quarti tutto un po' fisciai, tutto allungato, bello. Topperia. Oddio, Primeape. Allora, non mi piace tantissimo, però, molto carina l'idea di inserirci una delle porte da aprire con i leggendari. Oddio, no, Annihileape. Guarda come hanno massacrato mio figlio. Non è possibile una cosa del genere, no. Povero Annihile. No, aspetta, fateli una full art, Annihileape, per favore. Datelo a mano a qualcuno. Datelo a mano a Sousou. No, datelo a mano a Walter Baiamonte. Datelo a mano a qualcuno e veramente lo valorizzerebbe questo Pokémon. Che merda. Troppo bellino questo Sudovudo. Con la prospettiva schiacciata come ai vecchi tempi. Topperia missile. Jerky. Mmm. Mmm. Cioè, è carina l'idea di metterci la miniera, però. Mmm. Stupenda. Meravigliosa. Clamorosa. Uno stormo di Markrow che vola sopra la città. Piena. Bella piena. Bellissima comune. Bellissima comune. Top. Eh, sì, dai, sì. Poteva dirigere, quasi uno stormo, anzi, si poteva creare una doppia narrazione, cioè, sì, una narrazione a puzzle dove questo esercito di Markrow era, eh, era guidato, era, sì, direzionato da Aon Crow. Sarebbe stato molto bello. Magari un po' più lontano che gli ordina di volare sopra la città e magari fare questa, questa narrazione incrociata sarebbe stato molto carino. Maschiff, bellissimo. A culo questo cagnolino, eh, ha avuto due carte molto molto belle per ora. Forse tre. Molto belle. Oddio, anche questa è molto figa, oh, Shibuza, molto bravo. Molto illustratore per bambini. Ci sta. Mi piace molto molto. Mi piace tanto. Vado a dire per molto molto che non ha senso. Bellissimo. Bravo, bravo, ma... anche Mabostif ci sta. Ci sta. Questa è un po' meno bella dell'altra dove era incazzato come un mostro, ma ci sta. Minchia, Bronzor, che bucio di culo. Guarda che carta che t'hanno fatto. Ma bravi, cazzo. Bellissima. Molto natalizia, molto in linea col topic del set, che però si perde con alcuni Pokémon. Cioè, se vuoi fare una roba alla Ice Age di Magic, fa benissimo. Benissimo. Però, porca puttana, fammela fino in fondo. No, questo è un nuovo artista che non mi piace perché è un figlio di puttana. Questo Imagawa, detto in senso buono, è la napoletana. Nel senso che fa questi modelli 3D e poi ci mette il contorniposter di Photoshop. E' quello di prima. Sono sicuro che vada così. Sono sicuro che faccia così. Madonna, bello, un cazzato, con la neve dietro. Ma perché? Ecco, qua invece la neve non c'è. Ma perché? Avevano l'occasione di fare finalmente un set tutto basato sulla neve che mostra le proprie intenzioni già dal titolo e poi, però carina. La carta è molto carina. Questa è disegnata ed è già meglio. A parte che vedo uno Star Foil che non mi piace con monografia e che è picciata sopra c'è questo strato e questo lupo. Però, Dario è un doppio set Snow Hazard e Clay Bust. No, lo capisco, Pumolone, però mettiamoci solo neve, capito? Questo è Snow Hazard, mettici solo la neve. Se te vedi Ice Age di Magic è un grande set è tutto basato sulla neve, no? Perché c'è questa sorta di glaciazione nel mondo di Magic. Vabbè. Io, ragazzi, il Gabibbo non lo sopporto, però questa è già più carina, gli hanno dato la luce romantica. Vabbè. qui vedi questo è un tema primaverile, se c'è entrava la neve, ma anche quella di prima. Sì, carina. Oh, vabbè, da una spezza e me rimane qua, però. No, bella l'idea di farlo, però perché il bagliore esterno? Nel mio Gesù. È più carino questo Pelipper, tra l'altro lo sfondo mi ricorda molto le vecchie mappe di Pokémon rosso, blu, giallo e compagnia cantante. Ci sta, questo mi piace molto. Madonna, carina come idea. Carina, carina come idea. Mi fa appoggiare un tronco, così, proprio morto. Sembra quasi Rocky Joe. E se è bellissima, oh, metropolitana. Mancano alcune carte metropolitane, io vorrei un set solo metropolitano. Sarebbe fighissimo, con i grammar e max nelle fogne, i volto che girano per le strade. Sarebbe fighissimo, cazzo. bello, anche questo slulking, sì, slulking, bello, slulking, che piglia anche sciuffi d'erba da quanto incassato li strappa, mi piace. Sì, tipo un acquapolis. Sì, non mi convince il becco così frontale. No. Dio poi? Vabbè, si inizia, andiamo sulle cose serie. Personaggi? Minchia, questa sembra una terra di magic. Madonna. Sembrano le terre innevate di Ice Age. Questa è magic, eh? Vediamo un attimo. Mamma mia, Ice Age, ragazzi. Guarda, guarda. No? Qualcosina. Ora, mamma mia, Ice Age. che set. Che set. Ciò perde, dai. Perché qui poi mi emoziono. Vabbè, sono montagne, ma fai silenzio. Vai in Svizzera, trovate di fronte le montagne e poi dì, eh vabbè, sono montagne, succa. Oh, porca puttana, questo voglio. Questo voglio. L'ho detto prima, cazzo. Vi giuro, non le avevo ancora viste. Porca troia, l'ho detto prima. Dovete farmi queste robe per valorizzare questi Pokémon, non il soggettone di merda se già il soggetto è semplice di suo. Oh, così cazzo. Bellissima. Mmm. Questa acqua, quest'onda soprattutto, mi ricorda la stessa curvatura dell'acqua di un vecchio Stario. Era della quinta generazione. Aspetta che ve la... Eccola qua. Che mi gioco... Eh, questa è una... Sì, 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 sì. Guarda. È identica, cazzo. Troppo bella. Molto bellina. No, non dico che ha copiato, ma ha ricordato la cosa, ma non è assolutamente voluto, semplicemente è venuta uguale, ma... Ok. Però è molto bella, così almeno vi ho fatto vedere la... questa carta di Stario che a me piace particolarmente. la adoro, la adoro, è una carta che mi piace tantissimo. Ecco, no, ma non è questa. Dov'è? Eccola qui. Mi piace molto. Mi piace davvero tanto. Va bene. Comunque è molto carina. Poi quando ci sono più Pokémon insieme, poi quando si va sott'acqua, sapete, io sono un grande fan di queste carte. Bravi! Oh, e mi fanno... Queste le comprerò tutte. Mi fanno rimanere simpatici anche questi Pokémon che odio. Non Maryle, ovviamente, ma... Hey, Skew. Quello sicuramente. Minchia, che meraviglia. Vabbè, Comiglia lo fa sempre. Lo fa sempre. Lo fa sempre. Il più... Sta diventando il più forte, ma per distacco netto, eh. Nostro padre, dai, non c'è versi. Troppo forte. Ingestibile, davvero. Ma poi guarda la cosa, guarda che acqua gli ha messo sotto. Un trip. Troppo bello. Bravissimo, basta, non c'è da dirgli niente. Perché sia tranquilla, cioè sia... C'è molto respiro, c'è molta campagna, però c'è anche il tema... C'è il tema montano, dietro. Stavo per dire cittadino, scusatemi. C'è la follia cromatica di Comiglia attraverso il fiumi Chattolo, tutto pieno di colori. C'è anche la gioia del tuffo, di Frigibux. C'è tutto. Veramente, c'è... C'è la maturità artistica che può capire un adulto, ma c'è anche quell'innocenza delle illustrazioni per bambini che Comiglia realizza sempre, anche fuori da TCG Pokémon. Sei un grande. boh... Allora, Qui si può dare tante interpretazioni. O il buon Artibax con il suo soffio gelato si è dato una spinta per superare il crepaccio, o col suo soffio sta aggiustando il crepaccio e riempiendolo. Non lo so, forse più la prima. Ah, ma gli hanno fatto fare proprio la linea evolutiva. Ma minchia, ma... Ah, ma allora aspetta. Aspetta, guarda che cos'è. È un'acrobazia che si sviluppa con l'evoluzione, tipo. Sì, 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 no, no, allora sta distruggendo tutto. Perché qua non sta distruggendo nulla perché è ancora piccolino. Però vedete che c'è questo crepaccio? Poi c'è questo albero rotto? E poi c'è questa devastazione totale. È assurdo. È la sua mossa, sì, è la sua... Ah, è la sua mossa peculiare, quella che parte con la crestona. Probabilmente l'ha creato lui, questo crepaccio, con la cresta. Che figata. E taglia di conseguenza dagli alberi perché è una lama. Che casino meraviglioso. Belle. Non vedo l'ora di collezionarle insieme e di creare questa costruzione. Poi, tra l'altro, questi colori, che noi vediamo da prima nel fiume, si spandono negli alberi con questi motivi a quadretti, quadretti all'interno dei quadretti, e poi alla fine proprio esondano totalmente, coprendo tutta l'ambientazione e rendendola totalmente psichedelica. Bellissimo. E questa già mi piace meno. Vabbè, dopo tutto questo ben di Dio è difficile tornare alla regolarità con questa doccia fredda. Wow. Ok. Dai, diciamo che, a parte il bagliore che non mi sta molto simpatico, diciamo che è approvata. Bella. Bella notturna, con questi colori, questo tramonto che ormai è quasi finito. Bello. E loro che escono, no? Allo scoperto, dopo che cale il sole. Vabbè. Bellissimo. Non me ne ero nemmeno accorto. No, allora, raga. Top. Allora, questa alternative è incredibile. Allora, innanzitutto è disegnata benissimo. È questo, ok. Ma, questi stronzi hanno dato ancora più potere all'abilità di Sudo Udo, alla sua caratteristica, cioè quella di mimetizzarsi tra gli alberi. Questo albero roccioso che si mimetizza. E infatti, questa carta sembrava inizialmente un viale, un vialetto. E invece, se guardi bene, c'è Sudo Udo tra gli alberelli. Io forse l'avrei messo all'alberello ancora più indietro, per renderlo ancora più stronzo. Però, top. Veramente un chicco, un gioiello. Beh, dai, sì. L'unico modo per salvare Hortworm, l'odiatissimo anche dal sottoscritto Hortworm, era fare questo. Cioè, citare Dune. E l'hanno fatto. L'hanno fatto, l'hanno fatto bene, e... e l'hanno fatto con un grande artista, e... bene. Quindi, meno male, sei stato benedetto dall'arte, Hortworm. Non l'arte che ti ha creato, ma che ti ha ricreato in questa carta, sicuramente. Aspetta che c'è un bug. Ok, c'è un bug del sito. Rukidin, non si sa com'è. Da Dan Spence, questa sì, carina, mi piace molto l'idea dei tunnel scavati ovunque, bla bla bla, però non... Tranquil, bellina. No. No. Perché Lex così? No. Ma è dalla quinta generazione che fanno questa cosa. Sono passati dieci anni, tipo, di più. Perché? Ancora il modello 3D con i bordoni brillanti, basta. Vabbè. No, 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 queste no. Dai, avranno le alternative, dai. No, con i gioielloni anche. No, Annikilepe. Aspetta, però se c'è Annikilepe, se c'è Annikilepe, ex, forse c'è l'alternative. Ti prego. Ti prego. Vabbè, schippiamo tutto. Ti prego. Carine, eh? Oh, bella questa. Bellissimo. Così, così ti voglio. Bene, perché gli dà anche un po' un'aura, gli dà un'aura di austerità, ma anche di estrema cattiveria. Bellissima, tempestosa, magnifica. Potrebbe, doveva essere la, probabilmente la, la cover card di questo set. Bello. Bellissimo. Incazzato poi con tutti gli effetti che gli applicheranno sopra, sarà un chicco. Non vedo l'ora di prenderla. Bellina, questa squacabili. Ex addirittura. Gli ex dei Pokémon base. Bene, top. Te voglio, voglio tutto, cazzo, voglio tutto. Sperimentate, folleggiate. La Madonna, che bella alternative di questo trainer. Boia, con gli Starling in primo piano. Bel lavoro, peccato per le scritte che rovinano tutte, tutto. Sai cosa dovrebbero fare? Dovrebbero fare dei gift box promo con delle carte non giocabili dove tolgono completamente il layout. Le fanno così, libere. The Virgin card. Le fasce, credo che qualcuno l'ha fatta, questa operazione, non mi ricordo chi, ma qualcuno l'ha fatta. Sarebbe bello. Forse Magic. Forse Magic l'ha fatta, le Virgin card. Sì, le Art Series, è vero. Forse sì. Anche questa molto figa, interessante, con questa quinta che ci mostra dall'alto la postazione da DJ. Top. Bello, bello anche provocatorio le impalcature in silhouette nero. Ci stanno. Ci stanno. bravissimi, bravi. Ok. Certo, un bel super amo. È una bella energia. Ok, dai, approvato. Il prossimo Clay Barst. Vediamo un po'. Molto carino. Vieni questi. Sì. Sì, dai, ci stanno. peccato che lui che è sai, tu di solito mi piace molto. Questo pinecco non mi convince tantissimo. Va bene. Bello sto Heracross, bello un cazzato. Niente alternative di Annie Healip, no. Non è questo il suo momento, ma arriverà. Arriverà, io ve lo prometto, arriverà. Molto bellino, che ride così. Bello perché hanno sfruttato la sua espressione per dargli effettivamente nella carta così. Molto carina. Doppio culo, tarantula. Bellino questo nome. Così che guarda assonnato il mulino. Ci sta la grande. No, Kamerupt, questo Kamerupt ha dei problemi evidenti. Sì. Molto, molto bella, che cade impicchiata così. Troppo bello, poi Talonflame non c'è niente da fare. Peccato, peccato, che con lui si poteva fare qualcosa di più dinamico, di più matto, invece così statico che si siede, ma non lo so. Ecco, qui invece mi hanno ascoltato, ma non mi convince lo stesso. Mi convince questa colorazione sfumata, io la odio, quindi anche i miei artisti non la faccio mai fa, perché se no li fucilo. Bellissimo questo Pikachu. Bello. Bello. Nonostante apprezzi il trattone, qui ci si priva di quest'ultimo e si va su una colorazione pura, quasi a pastelli. Troppo bello. Il pesce l'ho schippato che c'è da Didderpesh. O mi fanno l'alternative se ne vanno a fanculo. Troppo belle. Troppo bello questo Pikachu. Così solare, meraviglioso, metropolitano. Però più che altro quello che lo fa vincere è lo stile, cazzo. Lo stile. Troppo bello. Bello, 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 bello. Bellissimo questo Raishu. Ma è stupendo. Il tema elettrico con dietro la foresta è eccezionale. Mi piace tantissimo. Vedi, anche questo Shinx, dai. Sì. Bella Madonna. Calmi, raga. Calmi, cazzo. Calmi. State calmi. Beh, Lux, dai. Sei meraviglioso. Ti meriti tutto questo. Bellissimo. Non me l'aspettavo. Il veleno che vediamo grazie a questo stile. cioè le punte velenose che sparano elettricità elettricità, no? Un po', come si può dire non so come spiegarvelo però mi piace. Mi piace molto. Che respingente, no? E lo senti. Questo respingimento con tutte queste linee a guzze. Sembra quasi, no? Un pungitopo. Sembra una rosa. Le spine della rosa. Bellissimo. Ci sta. Boh. Molto carino. Io lui lo detesto. Però, top. Top. Bello. Bello tutto. Lo sfondo è incredibile. È incredibile davvero. Con i suoi colleghi. Allora, ragazzi. Io credo di poter dire dopo tanti anni che colleziono, studio e amo le carte Pokémon ora anche quelle contemporanee che sto recuperando perché da quando hanno dato la botta artistica le sto recuperando penso di poter dire senza alcun dubbio alcuno che questa sia la mia nuova carta più brutta dell'intero TCG. prima c'era un Raikwaza ex di un gift box esclusivo giapponese. Destino vuole che un'altra ex prenda il posto di questo Raikwaza sconfiggendolo a bruttezza. Vediamo se ve lo trovo. Tanto a rovinare Raikwaza eppure questa ex ce l'ha fatta. La carta più brutta mai fatta di un Pokémon secondo me. Io non so perché l'hanno fatto così non so cosa gli è passato per la testa ma qualcuno ha deciso che questa carta andava bene. Io ce l'ho questa è un gift box di Deoxys. Lo davano tra l'altro in una scatola di latta insieme ad altre carte e mio padre. Questa però mi sa che l'ha sostituita perché non è solo brutto tutto ma anche averlo tagliato così l'occhio cioè è proprio una merda. bellino Jigglypuff bellino anche questo Wiggof boia bellino questo Spiritum di Kusub schiacciato bello sembra un modello 3D ma non lo è quindi insomma questo qua è già me nonostante Palosan mi faccia riguzzare molto molto bello vabbè io con Osuke sempre rispetto per mio padre wow minchia bello questo bello questo è un olo spero che l'effetto non si mangi tutto perché i colori dietro sono incredibili top però oddio bellissima però la carta lo odio ma questa è una merda comunque sai tu hai peggiorato cazzo ma perché hai deciso di abbracciare questa colorazione prima era più era piatto ma era meglio ma perché cioè ma non vedi ce l'aveva queste sfumature però non erano così marcate cioè guarda c'era delle cose molto molto più carine molto più pulite non so perché ha deciso di abbracciare questa colorazione so comunque non sbaglia un colpo vorrei poter dire lo stesso di questo però questo è no lui lo odio ragazzi lui è il mio nuovo nemico Akasaka come un quartiere di Tokyo si chiama non lo odio cioè lui questo qui dei modelli 3D effettati è proprio perché è il lupo travestito da agnello per me vabbè sì oddio bellissima questa barbo che si rufola nella merda ma bacio di peggissimo eh ma il lupo travestito da agnello in generale nella vita si sta sul cazzo molto carina però strana sembrava quasi post apocalittica non so perché forse lo sfondo dietro carina che spunta di eloti io vabbè ragazzi kawaii ha io kawaii in realtà scusate è bellissimo fa delle c'ha questa colorazione questo stile tutto suo tutto schiacciatone così è dinamico anche se tiene i pokemon fermi è bravissimo poi krogun top e la madonna altra spiralona o semi spiralona poi l'uncino che va nel viso dello spettatore proprio boh crowbler ci sta no questo non mi piace molto lui è difficile da trattare ha come so già bellissimo stupendo questo passimiel top top si ok dai ci sta ci sta ma boh no questo o meno molto bello allora io sono arrivato alla conclusione che mi piace questo pokemon l'ho osservato per tanto tempo ma alla fine l'ho rivalutato un po' come grimsnarl cioè che all'inizio e poi l'ho amato lo amo lo amo forse perché amo minecraft non lo so comunque naklastak mi piace e mi piace questo soggetto perché è possente sembra una marcia di elefanti stupendo hanno fatto proprio bene andargli un pochino più sotto e renderlo più austero bellino anche questo sembra quasi risorto da una vecchia rovina rimangi quello che ho detto su bellybolt mi sa che lui vince assolutamente cioè boh di meno ripigliati molto molto bellino bello questo tirannitar bello cazzo questo tirannitar non si vergogna di essere un bel pokemon tozzo bello panciuto bello ignorante bello Godzilla ci sta mi piace molto come l'ha inquadrato mi piace molto che sia ignorante tra l'altro mi ricorda molto il Charizard set base la bocca soprattutto e la posa della testa mi piace molto perché mi ricorda il Charizard storico set base top no questo non it's all mina idem peccato peccato perché si poteva fare qualcosa con i graffiti con si poteva veramente utilizzare uno stile street per cercare di dargli dignità magari l'hanno fatto con una full art non so vediamo che bello bello uno dei pokemon secondo me più sottovalutati e più odiati ingiustamente dalla community secondo me per colpa del modellaccio 3d e per colpa del dominante di merda che è fatto a stracazzo però molto bellino ok Noibat già meglio delle altre perché ha disegnato ma ha disegnatole tutte bellino giro a farci così tranquillissimo bello pulitino tutto dolciotto così guarda che belli riflessi sopra la pelle top peccato questo non mi piace molto no carino bellino sai lui cazzo ci sarebbe bene un alternative dato che si riproduce all'inverosimile tutta piena di Tandemouse tutta piena pienissima una carta bella meme tutta piena di stronzate bellina anche questa bellina che carina col il bimbo che cerca di arrivare alle bacche e loro che lo vogliono aiutare troppo bello questa la porto Agnese appena appena tornò in Giappone mio fottuto padre Flamigo ti difenderò fino alla fine fino alla fine cazzo anche te una bella full art con una bella colonia ci starebbe questo è bene ragazzi posso dire una roba sta roba che pokemon sta prendendo le terre magic e le sta trasformando in terre pokemon io la sto apprezzando tanto tantissimo ora manca già le facevano ai tempi mancano delle alternative fatte bene su questa roba qui e dico anche qualcosa di provocatorio fate come magic e rendete alternative le vostre terre ovvero le energie fate le alternative delle energie avevate accennato qualcosa tanti anni fa avevate fatto mi pare la terra buio con espion e la terra psico con umbrion ma anzi contrario scusate ma non erano un gran che si vedeva solo lo silhouette però vi prego fate le alternative delle energie fate qualcosa non solamente gli effetti glossy glitter non me ne frega un cazzo le alternative fate alternative di questa roba dai bellino molto carino molto molto carino che cazzo fa l'autostop mio padre troppo troppo buzz flaccinder davanti al fuoco che si scaldano nonostante sia un pokemon di fuoco vabbè ci sta magari lo guarda perché è il suo elemento bellino micchia ma Raisho è così grosso sai qual è il problema di questa alternative nonostante sia molto carina è che gli hanno fatto questo bagliore che lo distacca tanto dal letto e lo fa sembrare che voli sopra il letto questa quest'ombra bianca non è che mi mi piaccia molto vabbè peccato peccato delle scritte che fanno tangenza qui che annoia e la madonna perfetta questa è perfetta se Andy gasta nel mezzo al parco giochi è perfetta perché molti parchi giochi in Giappone sono fatti di sabbia e giustamente lui si crea dalla sabbia top questo è top per ora questa è la più bella del set che ho visto gli alternativi c'è versi bellissima bellissima guarda che bello guarda che bella sovrapposizione di piani cristallino primo piano sulla sinistra sì però levate i bordi sbattetevi nel cazzo pokemon levate i bordi non aspettate il prossimo set togliete il layout per questa roba almeno via il bordo perché tutto questo questa pienezza di dettagli fatela esondare fatela sfogare molto simili il tubo qua così cos'è ah non c'è l'evoluzione forse nelle ex vediamo dopo sì un peccato secondo me è bellina però si poteva fare di meglio molto figo questo è Godzilla proprio molto figo mi piace ah eccola l'alternative ah lo stile non è proprio street però hanno proprio giocato sui graffiti come suggerivo top dai ci sta ci sta ci sta questa era da far sfogare bene facendo uscire tutto dal layout secondo me però almeno degli elementi dai ci sta ci sta mi piace molto amore via ti compro questa allora ma non è possibile ragazzi 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 giuro non l'ho viste prima giuro non l'ho viste prima non è possibile raga non è possibile una cosa ma non è possibile cioè ma una ma incredibile no dai sembra fatta apposta giuro non l'ho viste non in blind ragazzi non in blind top bellissima la adoro tutti intorno che sono fanno questa danza sono aperti tutti infieri e lui nel mezzo che dorme sembra quasi la scena del re leone diventerò presto un re è bellissima oddio che strano bella l'idea è geniale però una foto di un safari praticamente un giornalista del national geographic che si è messo lì a fotografare un branco di fari fari giraff e incuriosito un fari giraff si avvicina all'obiettivo e lo occupa scuriosando scoprendo l'unico problema che è un po' il problema di Raishu ora poi vedrò come si vede di ciccia è che sembra avere un'ombra sotto al collo e sembra quasi appiccicato dopo però è interessante l'idea e la realizzazione molto bella il prato mi ricorda da spade a spiglie carta storica di beta alfa beta al limite ed e poi varie ristampe sì qualcosina 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 da spade a spighe storica carta di magic ma non sapevano assolutamente che cazzo stessero facendo che cazzo stessero facendo veramente non lo sapevano grandi ok tutto sbagliato tutto tutto sbagliato tutto guardate la parte inferiore della carta tutta vuota cioè fanno delle meraviglie eccezionali e poi nel mezzo c'è questa roba io non lo so ma poi fa ore 3 così modello guarda come hanno rovinato il pokemon più bello uno dei pokemon più belli di questa generazione dio cristo e su questi vanno fuori con layout guarda questi stronzi no ragazzi però veramente non è possibile cioè ma mi pigliano per il culo cioè con questi vanno fuori con questi vanno fuori dal layout dalla cornice con questi sovrappongo vanno al vivo cioè io veramente non riesco a capire che cazzo di logica c'è ma perché mi devo incazzare no dai raga ma questo è il modello 3d discarato e violetto ma andatevene a fanculo no non ci si crede non è possibile che questa roba sia vera ma nemmeno le carte dei monster in my pocket erano fatti così nemmeno quelle avevano più dignità nonostante fosse il ricalco del pupazzetto di gomma dello sculpt del pupazzetto di gomma era il 1990 vediamo queste dai ma vai a fanculo allora questa ragazza è il motivo non sto scherzando era è il motivo per cui i giapponesi facevano la fila una due settimane prima nei negozi per preordinare questo set perché c'è sta tipa non sto scherzando e già questa carta si prevede che varrà non questa forse l'alternative perché ci sarà sicuramente l'alternative figurati se pokemon company si fa scappare in occasione del genere si prevede che supererà i 100.000 yen allora ora mi incazzo ora mi incazzo ora mi incazzo perché questa è una carta meravigliosa stupenda senza senso e qua me la chiudi con il bordo mentre di là l'occhio me lo fai andare al vivo ma con che logica con che coerenza carina sì ecco vedi questa è quella che prosegue bello di spalle sì sì la colorazione non è di mio gusto ma top bella bellina che è questa lui così burbro con questo con questi sembra quasi Ganondorf con questi tratti molto tagliati con l'accetta che però prepara si lava le mani e con i pokemon tenerini intorno bellissimo bella contrapposizione ecco per questa questa è la ragione io vi odio tutti giapponesi pazzi sclerati oddio sembra quasi un alternative di energia qua forse ci stanno arrivando vedi questa è la loro concezione di alternative di energia metterci più globa non è la stessa cosa vediamo il set di 151 ah per ora ci sono solo queste beh giustamente Bulbasaur Charmander Squirtle Pikachu carino bello il remake di Arita di Abra del set base ha fatto il remake di Abra del set base che nostalgia cazzo bellino vedi l'ha fatto che si sveglia praticamente ha remichizzato bravo ci sta ci sta bravo Arita che si autocita ma fa bene se lo merita può farlo oddio cadabra eh sì cadabra torna è tornato in occasione di 151 che è una manovra di marketing vabbè dai Arita è disegnata ci sta questa me la posso anche Dio poi Dio poi Dio poi Dio poi Dio poi Dio poi è un paio di occhia e Giovanni tutti i sensi tra l'altro Muex è una merda questa è molto carina cadabra lo sai cosa ha fatto forse Arita perché Arita non è un imbecille è un grande secondo me Arita ha reinterpretato tantissimo inventandosi tanto ovviamente partendo dal nulla è andata un po' in sovrainterpretazione il cadabra del base set disegnato da Sugimori che era lo sprite se lo sprite è l'artwork di Sugimori di rosso e verde appiccicato su uno sfondo pre renderizzato che aveva rubato da una cartella piena di sfondi così e che aveva infestato il set base però secondo me perché mi ricordo che il cadabra del set base aveva lo sfondo nero una sorta di fulmine che doveva ricordare il suo potere psichico un po' come i new type di Gundam che quando utilizzavano i loro poteri c'era quell'effetto sonoro e quella sorta di spaccatura quella sorta di flash quindi secondo me era un po' quello e secondo me Arita siccome non è il primo degli stronzi ha cercato ah no non era un fulmine era questo effetto strano il fulmine ce l'aveva eletta Buzza scusate vedete secondo me ha voluto la posa è quella la posa è quella lì secondo me ha voluto rimechizzare Sugimori sfidando la follia perché comunque questo cadabra è niente cioè è un artwork appiccicato su uno sfondo però chissà chissà secondo me secondo me secondo me secondo me però magari mi piace sognare e basta bene prendi il telecomando e schiaccia sai bene quel toto domina chi c'è su youtube è qui c'è t'est qui c'è t'est